Il sequel di Joker sarà un musical Ciao a tutti, benvenuti su Alkil, sono Sandrogan e in questi giorni si sta parlando molto del sequel del film Joker, con protagonisti Joaquin Phoenix e Lady Gaga, intitolato Follia a 2, ovvero Follia a 2. Il primo film sul clown più famoso di Gotham City, uscito nel 2019, è stato un gran successo per critica e pubblico, raccontando la storia delle origini di uno dei villain più iconici del Cavaliere Oscuro e ponendolo più come vittima della società malata in cui vive che come carnefice come di solito rappresentato. E a quanto pare i rumor dei mesi scorsi avevano ragione, il film sarà un vero e proprio musical. Lady Gaga interpreterà probabilmente il personaggio di Harley Quinn e la storia sarà ambientata all'interno del manicomio criminale di Arkham. Un musical è di certo una scelta azzardata, ma se realizzato bene può essere anche un valore aggiunto per il film. Al netto di ciò, andrete a guardare Joker 2 al cinema? Fatemelo sapere con un commento.